Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, siamo giunti al quarto giorno della novena all'Immacolata e quest'oggi mediteremo sulla bellezza dell'Immacolata. La bellezza dell'Immacolata è l'incanto del cielo e della terra. I santi non erano mai sazi nell'esaltarla e gli angeli stessi non sono in grado di tesserne degnamente le lodi. Quello che possiamo dire è solo una piccolissima cosa rispetto alla realtà e rispetto a quello che lei merita. Giuseppe Schrievers afferma che la bellezza di Maria ci conduce a Dio. Ecco le sue parole. Dio ha voluto rendere Maria incomparabilmente bella e buona affinché i nostri occhi e i nostri cuori non potessero staccarsi da lei. Ella è tenera, affettuosa, umile, paziente, piena di compassione per la sventura e di indulgenza per la debolezza. Ella è vergine, la vergine per eccellenza, riunisce in sé tutti gli incanti della verginità, la dolcezza, la bontà, l'innocenza, la purezza, il candore. O quanti cuori ha attirato Gesù Cristo la contemplazione di questa creatura tutta luce e grazie. Quanti poveri schiavi del vizio, vedendola, sono stati presi da un santo rispetto e da una vergogna salutare e hanno rinunziato al peccato per meritare di essere amati da lei e di venire suoi figli. Giovanni di Gesù e Maria, autore carmelitano del XVI secolo, in un breve trattato ricco di spiritualità con un lirismo toccante e carico di espressione, esalta la bellezza dell'immacolata con parole molto semplici ed efficaci, affermando che essa, questa bellezza, è la calamita dei cuori. Ecco le sue parole. La bellezza della Regina del Cielo offrirà agli occhi dei beati uno spettacolo estremamente lieto per tutta l'eternità. La bellezza di Maria è la calamita dei cuori dalla quale sono attratti con sommo gaudio i beati e ciò che è ancora più sublime lo stesso re dei cieli. Questa è la gloria della bellezza, non vi è grado più elevato. Santi il defonso di Toledo, che è un padre della chiesa, si rivolgeva alla Madonna con grande tenerezza. Per lui la Madonna era oggetto di affettuosa contemplazione e per esaltare la bellezza della sua amata signora usava un linguaggio lirico, chiamando a raccolta l'incanto di tutte le creature, le quali, quindi, sono un riflesso della tutta bella. Così diceva rivolgendosi alla Madonna. Ave o torrente di misericordia, fiume di pace e di grazia, splendore di purezza, rugiada delle valli, tutta bellissima e degna di venerazione, nessuna donna fu e può esserti simile. Puro è il tuo spirito e semplice è il tuo cuore, il libato è il tuo corpo. Tu sei indulgente e clemente, cara Dio, amata sopra tutti. Chi ti assapora ardentemente ancora ti desidera, ha ancora sete della tua santa dolcezza e sempre impari resta la sua brama di amarti e di lodarti. L'immacolata è la tutta bella perché è la piena di grazia, è il capolavoro dell'Altissimo. Seguendo l'insegnamento dei Santi riusciamo a comprendere che l'autentica bellezza è sempre unita alla santità, è come la manifestazione esteriore della perfezione interiore e della meravigliosa armonia delle virtù. Gli occhi sono la finestra dell'anima e negli occhi di una persona santa noi possiamo scorgere lo splendore del paradiso. Il beato Enrico Susone fu un mistico dominicano che si distinse per una grandissima devozione alla Madonna. Anche lui esaltò con mirabili inni la bellezza e la bontà di Maria, quest'anima così pura non si stancava mai di lodare Maria e così scriveva pieno di stupore. Salve Pia Vergine, decoro delle vergini, quando ti guardo mi sembra di vedere il cielo che risplende nello scintillio delle stelle, credo di abitare nel paradiso delle delizie. In te nulla di amaro o di aspro, ma tutto quello che in te è purissima dolcezza di una suavità incomparabile. Tu sei tutta bella e suave, benigna nell'aspetto, serena nel volto, dolce come il miele nelle parole, suave e bella, feconda di bontà, piena di grazia, dolcezza purissima. Tu accogli tutti i peccatori e li riconcigli fedelmente col figlio tuo. Un altro mistico che si distinse per una grande devozione mariana fu il beato Ermanno di Steinfeld. Si racconta che quando si trovava solo nella sua stanzetta si prostrava sul pavimento e in quell'umile posizione amava ripetere ininterrottamente Maria, Maria, Maria e a chi gli domandava il motivo di ciò umilmente rispondeva. Raccolgo con gioia divina i frutti deliziosi del nome di Maria. Quando lo pronuncio mi sembra che tutti i fiori, che tutti i profumi mi si riuniscano d'intorno per imbalsamare l'aria, mentre una virtù che io non so dire riempie l'anima mia di una gioia celeste. Mi ricreo dalle fatiche, dimentico tutte le pene della vita. Se potessi non vorrei mai lasciare questa posizione necessaria e giammai di ripetere il nome santo di Maria. Ebbene, cari fratelli e sorelle, dopo aver ascoltato le bellissime parole di questi mistici autori spirituali, parole che ci spronano ad amare e servire con sempre maggiore fervore l'immacolata, vogliamo concludere con la preghiera della novena. O specchio di santità immacolata Maria Vergine, noi godiamo nel vedere che sono state infuse in te sin dalla tua concezione le più sublimi virtù e tutti i doni dello Spirito Santo. Ringraziamo e odiamo la Santissima Trinità che ti ha favorita con questi privilegi e ti supplichiamo, o Madre benigna, di ottenerci la pratica delle virtù e renderci così degni di ricevere i doni e la grazia dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Amen. Vergine Immacolata, prega per noi.